quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo salve bentornati a risolto giallo dalla vostra Alessia Sorgato e da Niccolò Mazzavillani eccolo qua sono la zia di Niccolò Mazzavillani buongiorno ciao a Paola Varalli scusate ma Mazzavillani che continua a latitare si merita questo ed altro bentornato Gino Marchitelli buongiorno bentornato tra noi in realtà in studio nuovo mi sembra di ricordare che la volta scorsa fossimo nell'altro assetto come stai bene ha scritto un altro libro anzi forse ne avrà scritte anche di più tanto per oggi parliamo di questo guarda Varalli Milano Incidente Mortale edizioni Frilli Super Noir Bloss Gino Marchitelli bisognerà che me lo presentate su Gino Marchitelli prima o poi lo presenteremo è un bravo ragazzo nonostante la serietà dell'argomento di cui tratta questo romanzo dunque Marchitelli romanzo numero 18 abbiamo la maturità quest'anno foglio rosa patente esatto patente letteraria foglio rosa letteraria accidenti tu a quanti sei a che te quattro ma non è vero senza lascia sale antologie canteri non valgono non valgono se no quelle antologie a quanto sei no io ne ho fatte altre due antologie ma tre ma non mi interessa comunque da quest'anno diventi imputabile Marchitelli sei maggiorenne tanto per e mi vai davanti al tribunale ordinario facciamo due domande stupide stupide gliele fai te perché sei Mazzavillani oggi no io Mazzavillani sappiate Mazzavillani lei è la secchiona della situazione Mazzavillani è il disturbatore perché ha chiamato me secondo voi perché sei la zia perché sono la zia di Mazzavillani perché come disturbatrice sono professional allora vorrei sapere da te io ne ho letto un tot dei tuoi libri ma non ancora questo ma non ancora questo però io ci sta Mazzavillani fa così io devo fare come lui Mazzavillani non legge niente è così però è sintatico però è sintatico io ne ho letti diversi poi nel gruppo è il bello e poi mi piace molto anche qui abbiamo il commissario e la Cristina di Radio Popolare giusto? ritornano dopo cinque anni è un bel po' che erano spariti dici qualcosa dai dici qualcosa di sto libro ma diciamo che questo libro nasce da una brutta situazione una brutta storia che era accaduta a San Donato milanese nel gennaio del 2022 e che aveva un po' sconvolto tutta l'opinione pubblica della zona quando il comune di San Donato ha messo un semaforo sulla Paulese in un punto particolare dove c'erano tanti incidenti delle persone che andavano in un magazzino che si chiama Metro quello per i grossisti e questa strada attraversa la Paulese c'erano tanti incidenti hanno messo il semaforo quello intelligente che ti riprende che ferma che fa scattare prima eccetera e un giorno tre ragazzi su una macchina completamente pieni di alcol e droga sono arrivati a 120 all'ora sono passati col rosso e hanno preso in pieno una utilitaria dove c'erano su una ragazza una mamma la ragazza è morta sul colpo la mamma molto 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 grave e le immagini di quell'incidente non sembra un incidente stradale ma sembra che gli hanno sparato con un carro armato perché la cosa è stata talmente potente talmente di fianco questa roba ha sconvolto tutti la ragazza conosciutissima quindi molto amata sul territorio a me questa cosa era rimasta lì anche perché senza fare nessun tipo di condanna i tre che hanno commesso questa cosa sono subito scesi dalla macchina e sono scappati non si sono fatti niente li hanno rincorsi gli automobilisti gli hanno presi eccetera sì perché erano comunque un po' una botta di quel tipo lì eccetera e questa roba mi girava mi girava lì e avevo voglia prima o poi di raccontare non tanto un incidente in sé ma un incidente non causato da fatalità da casualità ma di una violazione in questo caso droga e alcol eccetera ma andare poi a scavare nella coscienza e nella vita di chi rimane e perde un amore una famiglia una storia in questo modo improvvisamente impensabile e quindi puoi anche andare a vedere però come stanno anche le famiglie di quelli che hanno causato questa storia in questo caso ho voluto inserire quattro giovani di quattro classi sociali differenti che però sei partito da fatto vero ma questi sono di fantasia tua sì certo c'è anche lo spostamento Lambrate questo povero Lorenzi l'ho fatto andare sul luogo dell'incidente e quello c'hava da fare invece vabbè sai che gli scrittori sono dei bastardi perché possono creare un sacco di problemi ai personaggi e quindi andare a scavare anche nella reazione delle famiglie di questi ragazzi di quattro classi sociali differenti e quindi provare a vedere come stanno i genitori perché c'è stato un incidente del genere quello ha perso moglie e figlia però gli altri hanno dei figli che hanno commesso una roba abominevole quindi chiaramente poi la parte nuare è quella dell'incidente a Lambrate e Lorenzi che interviene decide di capire chi ha venduto la roba a questi quattro e dove e quindi questo adesso per sommi capi poi il piano narrativo si sposta su due temi a te molto cari perché c'è la denuncia sociale che in qualche modo tu riesci a trattare anche in questo romanzo attraverso le vite precarie di questi ragazzi uno solo dei quali lavora tra l'altro con il padre quindi forse neanche tanto volentieri e poi l'indagine vera e propria quindi tutta la parte della detection con i tuoi protagonisti volevo domandarti una cosa hai parlato con qualcuno dei protagonisti della storia reale per ispirarti hai intervistato qualcuno di loro o è tutto frutto di fantasia? no diciamo che io secondo me chi scrive noir di indagine di denuncia sociale deve informarsi molto poi dopo vabbè capita che ti capita la persona che ha vissuto un'esperienza che te la racconta non so per esempio nell'assenza e quando lo leggono piangono tutti cioè l'assenza fa parte proprio di una storia che come associazione culturale abbiamo vissuto con due persone che ci frequentavano abbiamo visto questo amore pazzesco no? che poi è finito come è finito parentesi ma Zavillani quando è che me lo dai? l'assenza ce l'hai te da sei mesi lo dicevi te lo portavo perché io ce l'ho e l'ho letto ma sei assente ma sei assente ma Zavillani alla zia non l'ha dato l'assenza verrà colmata in questo caso io ti do l'assenzio ma Zavillani se non ti fai rivedere l'assenzio e quindi diciamo sono sempre almeno per quello che riguarda me esperienze dirette o esperienze attraverso persone che conosco molto bene o casi di cronaca che mi hanno talmente colpito che vado un po' a studiarli poi è chiaro che io non ho mai parlato con la famiglia di questa ragazza anche se sui giornali hanno un po' raccontato tutto eccetera sui ragazzi i ragazzi ultimamente ci sono un po' di situazioni in cui secondo me questa precarizzazione della loro vita senza prospettive senza futuro senza possibilità per la grande maggioranza di farsi una famiglia eccetera li può portare così a sbandare e quindi non è che c'è bisogno della cosa in sé ma di quello che è il clima generale che vediamo intorno facciamoci un esempio quando l'altra sera quelli lì per noi hanno messo il cavo d'acciaio sul viale che se arrivava uno in moto gli tagliava la testa poi li prendono e uno dice ma io mi stavo annoiando cioè ragazzi non è che c'è bisogno di parlare con lui per poter descrivere in un libro questa foglia generale che un po' si è resa generalizzata ecco serve soltanto a generalizzare il senso di colpa e con ciò a togliere responsabilità dopodiché per fortuna per fortuna ci sono tanti giovani in gamba sono diciamo incatenati ammanettati da una società che sostanzialmente non li vuole li respinge tranne Mattarella che adesso ha appena detto che è un giovane lui ha tirato giù suo fratello sparato dalla macchina qualcosa gli è rimasto di quella storia la delicatezza e la sensibilità che tu hai dimostrato in questo romanzo e che ha un tratto davvero se posso permettermi anche evolutivo nei confronti di altre tue creazioni letterarie che Paola e Dio abbiamo letto dimostra quasi una partecipazione emotiva personale è come se tutti fossi calato non soltanto nella parte del padre della giovane vittima ma in ciascuno degli altri padri questo è un romanzo di padri sono i quattro padri che portano avanti la storia intanto ti faccio complimenti perché è uno dei gialli più commoventi che io abbia mai letto nonostante il genere di solito non porti a questo genere di sentimento intanto quindi complimenti io auguro a questa tua opera davvero una bellissima carriera di premi e di riconoscimenti però al contempo non posso fare a meno di dire ma quel Marchitelli così duro quel Marchitelli che ci infilava le scene di sesso nei romanzi qui una c'è ma è proprio una stai invecchiando Gino che mi sei diventato così è maturato è maturato è maturato no no io penso e la zia di Mazzavillani saprà confermare questo io penso che quando scrivi se hai la fortuna di scrivere primo se hai la fortuna in qualche modo di essere pubblicato se hai la grande fortuna di essere letto e apprezzato anche da una minoranza non ha nessuna importanza eccetera però quando continui secondo me è abbastanza inevitabile che cresci sì come quando da bambini si comincia a crescere si fanno le esperienze eccetera poi è ovvio che nella letteratura c'è bisogno poi di aver dietro un editing cioè tutto un lavoro da parte di professionisti o semi tali che ti consentano di migliorarti io ho una secondo me una fortuna che dopo che ho iniziato a scrivere con morte nel trullo tutte quelle emozioni che erano state represse dal lavorare in proprio nei cantieri edili in mezzo all'andrangheta a tutte quelle porcherie mafiose dopo aver perso il lavoro a Leni per aver fatto la rivoluzione contro il precariato eccetera aver preso una batosta sul lavoro personale ed impiantistica che avrebbe penso ammazzato anche dieci elefanti in fila quando ho cominciato a scrivere grazie a Vittorio Gnoletto amico enorme che non posso che ringraziare sempre io ho cominciato a liberare l'archivio delle emozioni dopodiché è ovvio che magari nel primo libro ci saranno le ingenuità come tutti noi le cose cambiano mica tutti nascono cioè belli Dante Lighieri o Petracca eccetera Petrarca Petrarca è il mio dentista un saluto a te ciao dentista quindi io ho la fortuna di aver liberato le emozioni e siccome in realtà sono più donna che uomo quindi vivo le emozioni in maniera molto forte la tua componente femminile sono riuscito secondo me e riesco a tirarla fuori perché ho la fortuna a questa veneranda età di emozionarmi ancora molto beh non piango più come nell'assenza però queste robe qua queste emozioni riesco secondo me a non trattenermele più e a mostrarle poi in un libro vanno in una direzione in un libro vanno in un'altra cioè campi fascistici non c'entra niente no è una roba di denuncia certo è un saggio no eccetera però in questo libro in modo particolare sono riuscito secondo me a raccontare un po' la mia storia di presenza e aiuto ai migranti a Ventimiglia dove io sono stato molte volte alle manifestazioni e al lavoro con il prete che poi è stato cacciato via e con alcune organizzazioni no border che aiutavano i migranti che continuavano a prendere botte in Francia e li spedivano in Italia botte in Italia e li spedivano in Francia e quindi poi passavano le Alpi dietro lì e ci sono decine e decine di morti che sono lì che nessuno è andato a recuperare e ho conosciuto un muratore che era proprio un po' il leader di questo movimento ci ho lavorato molto insieme ha pagato un prezzo pazzesco perché gli hanno dato il foglio di via da Ventimiglia dove lui viveva con la famiglia e l'aveva al lavoro quindi due anni l'hanno allontanato da quella zona lì e quindi io queste cose che ho visto e ho sentito in qualche modo volevo provare a raccontarle non dal diretto interessato che ha partecipato a quelle iniziative ma dal punto di vista della scoperta di quest'uomo che ha perso moglie e figlia nell'incidente e quando non ce la fa più scoprirà invece che si può rinascere mettiamola così io sono commossa vai tu no no commuoviamoci l'audience che sale tutti che piangono tu hai avuto tanti editori sì io ho tanti editori hai tuttora tanti editori Marlecchino qui sei tornato con Frilli perché il commissario Lorenzi è purtroppo è vincolato è vincolato sì lo so anche le squinzie è purtroppo perché purtroppo purtroppo perché secondo me il vincolo troppo lungo sui personaggi da parte degli editori è una cosa che io non condivido e che se potessi contrasterei con qualche picchetto sta per cominciare l'ennesima no siamo tornati al Marchitelli di prima ah ecco scusa secondo me non è giusto cioè ti devono tenere fermo un po' tu dici magari cinque anni sì ma sì io ho avuto anche sette anni sette anni passano sono lunghi ma passano però vent'anni tenere vincolato un personaggio ma con un obbligo di produzione all'interno degli anni ci mancherebbe ma è all'ora non scrivete basta ho capito ma non è che posso far morire Lorenzi non mi dispiace poverino poverino infatti io andrò avanti credo diciamo che sono tornato su Lorenzi dopo quattro anni perché continuavano tutti a milanese si dice virgolette tampinarmi ma quando torna Lorenzi quando torna Lorenzi facciamo tornare Lorenzi sì perché è un bel personaggio secondo me a me piace tanto anche Palermo sinceramente anche a me ma ho preferenze ma perché io sono così io ho preferenze per Lorenzi perché non hai incontrato Palermo non ti ha fatto la corte no non l'ho incontrato cambia idea però ne ho letto ma quando lo incontri non è come leggere ma perdonatemi visto che almeno Lorenzi è della scuderia delle squinze facciamoli incontrare in un libro facciamo una bella roba insieme che le squinze sono del 2006 non tornano come date 2006, 2007 e 2008 Lorenzi siamo al 2014 è un po' più attualino le squinze è un po' invecchiate no dovrebbe ti autorizzo ti autorizzo dovrebbe una sera che si è ubriacato che non beve andare con la milf no si è ubriacato e ricorda un episodio casuale nel quale hai incontrato una delle squinze ha incontrato Anita o Mirella potrebbe starci quindi sei autorizzata a lavorarci Carlo preparati Carlo preparati io non posso perché Cristina mi spacca le gambe è la roba che devi fare antipatica sta Cristina no è gnocca ma è antipatica via ma fatemelo dire io quando un personaggio mi piace lo dico ma questa qua non mi piace per niente quando avrai letto morte nel trullo ci ripenserai devo tornare a morte nel trullo non mi piace Cristina e poi è proprio un problema anche dicevamo prima Palermo piuttosto che Lorenzi è personale io per esempio preferisco Ricciardi e non amo molto i bastardi di Pizzo Falcone per quanto sono bellissimi l'autore sia lo stesso per cui è personale la cosa è proprio personale a me piace di più Lorenzi e vabbè poi le zie quando si attempano le zie si attempano mi cominciano a piacere poco più che cinquanteni no poliziotto un po' così perché non è il classico poliziotto pieno di problemi no no sì che non ne possiamo più no infatti veramente normale però c'è qualche cosa sa cucinare molto bene ne abbiamo tanti noi di problemi se dobbiamo caricarci anche quelli dell'investigatore non ce la facciamo più ultimissima domanda da parte mia poi ti lascio alla zia non tutti sanno ma dovrebbero sapere che Gino ha una floridissima e degna di essere ricordata attività a livello di concorsi kermess incontri che è una mano santa soprattutto nei confronti delle giovani penne o comunque delle penne che si affacciano come esordienti hai detto matress o kermess 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 matress non vogliamo sapere appunto magari sai ho l'orecchio un po' sporco capito dobbiamo sapere scusa sarebbe stata una puntata così meno male che non mi hanno fatto troppo commuovere con la storia dell'omicidio cosa vuoi dirci dei concorsi o comunque delle rassegne non soltanto quelle che hai vinto ma anche quelle che organizzi conduci no soprattutto quelle che organizzi no quelle che organizzo il fatto di prendere dei premi per me è una sorpresa ogni volta sinceramente devono essersi sbagliati ha scritto l'ho letto secondo me si sono sbagliati un primo posto cioè di solito io arrivo dal posto dal due in poi il primo è difficile quindi si sono sbagliati no e niente adesso quest'anno fortunatamente è riconfermato il festival di Verbania tra marzo e aprile io te l'ho già detto io mi do a volontaria se Mazzavillani si inventa una scusa vengo con Varalli tra marzo tra marzo e aprile parto oggi vado su a Verbania una decina di giorni proprio per capire quando faremo questa cosa qui approfittiamo di un assessore alla cultura che è giovane molto in gamba molto sveglio cia voglia bene e siccome l'anno prossimo Verbania va a elezioni ha detto senti facciamo la terza edizione perché l'anno prossimo si samminga come va a finire no e quindi tra marzo e aprile ci sarà la terza edizione di Giallo Verbania è stato il maggiordomo vabbè questa è la loro scelta di titolo poi c'è Maggio in giallo Maggio in giallo quest'anno è il decennale Salento in Noir è il settimo anno e Luino che l'anno scorso mi ha chiamato facendo un ragionamento un po' legaiolo non leghista legaiolo fa tu sei lombardo e organizzi festival in Piemonte sul lago dalla parte di Piemonte e noi siamo di qua siamo in Lombardia ho detto vabbè ho capito vengo anche da voi siamo andati a Luino è stata una bella situazione mi hanno chiesto di rinnovarlo e mi hanno chiesto soprattutto di portare Giovanni Impastato il fratello di Peppino che io conosco molto bene per raccontare la storia di Peppino Impastato non nel festival del Noir e poi si è aggiunta quest'anno la richiesta di organizzare un mini festival a Ventimiglia sulla base di questa della tua conoscenza e del lavoro che hai fatto con i migranti esatto a Ventimiglia stanno leggendo il mio libro e dicono ma chi è questo? ma fatelo venire qua ma chi è? ma chi è? ma chi è? perché Ventimiglia? perché Ventimiglia? come ti permetti? questo stanno leggendo Milano Incidente Mortale sì 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 e quindi diciamo che dovrebbe anche realizzarsi il quinto festival su Ventimiglia e c'è in sospeso Cremona ma caspita mi scuso gli ho fatto la domanda senza calcolare i tempi no arrivati a 6 basta Cremona Cremona basta perché poi devi fare sì sì c'è un'altra cosa perché devi fare un sacco di lavoro su queste robe qui un maglio organizzativo gratuito non pagato cioè non ho capito io ribadisco che se volete Risolto Giallo c'è sì sì ma a me piace dare la possibilità a molti autori a me come associazione a noi a Picchio ci piace a Picchio molto l'idea di dare la possibilità alle persone di raccontare le loro storie certo non è che c'è tanto poi riconoscimento ringraziamento devo dire la verità però pazienza siete incomiabili comunque eh sì incomiabili da vedere quanta gente viene l'anno scorso Risolto Giallo ha girato due puntate durante Maggi in Giallo ci siamo tutti quanti divertiti tantissimo perfino il nostro registra che bofonchia sempre invece quella volta lì si è divertito un sacco e quando gli abbiamo detto guarda che adesso non bofonchia più è perché l'associazione culturale il Picchio è extra parlamentare quindi ha questa capacità stile anni 70 di rendere le cose anche più leggere simpatiche tu dici che è per questo che non bofonchia Rufus può essere ah dici che ha spesso di bofonchiare Rufus può essere questo non lo so però che noi siamo extra parlamentari ti lascio Marchitelli ben quattro minuti no che cos'è che cos'è usciamo insieme non mi ero più pronta niente usciamo insieme senti telefono a mio nipote quasi quasi a mio nipote Mazzavillani che avrà una domanda per Marchitelli cosa ne dite fagli fare al solito no c'ho io la domanda per te dai vai voglio sapere vorrei no voglio voglio una roba da fascista vorrei mi piacere vorrei vorrei sapere eccetera come ti stai trovando con la nuova linea editoriale sulla quale stai lavorando se è uscita perché con Todaro io conosco la Todaro che è una bella persona gran brava editrice cura molto i libri no no è vero io non riuscirei a fare dei panigiri qualcuno di cui non mi fido è una bella casa editrice piccola non fa tantissimi libri non produce 20.000 libri all'anno ne produce 5, 6, 7 qualche lei ma li cura e tutti quelli che leggono che hanno letto l'ultimo mio mi dicono si vede che è un libro curatissimo fa un grande editing ha un editor anche bello mazzolante loro avevano la tecla d'ozio loro avevano la tecla d'ozio che era fantastica purtroppo è mancata infatti la collana è tra tutte e due ancora c'è scritto collana fondata l'impronte da tecla d'ozio e da Veronica adesso sei tu che mi devi fare una domanda a me quali sono i tuoi prossimi progetti quali sono i tuoi prossimi progetti ma certo è in dubbio allora sto lavorando a uno un nuovo personaggio che sarà secondo me straordinario se riesco a farlo uscire perché è un ispettore di polizia Salentino che partecipa a una manifestazione contro la centrale nucleare che volevano installare davvero a Ostuni a Carovigno dove c'è la casa di mia nonna e quando devono mettere nell'85 vogliono mettere la centrale nucleare tutto il paese si ribella e io ho le foto di quella manifestazione dove ci sono anche i bambini di tre anni con i cartelli no la centrale no e questo qui che è un bambino ha otto anni partecipa a questa manifestazione e si gasa di brutto quando diventa grande aspetta perché lui dice va dal capo dei vigili vicino al sindaco gli dice io ha già fa la guardia io sarò una guardia ma lui è di una famiglia di delinquenti incalliti del paese poi quando glielo va a dire alla madre mentre occupano la ferrovia prende un sacco di botte e la madre dice stasera quando arriva tuo padre prendi il resto no però lui riuscirà e lo ritroveremo da adulto quando viene introdotto in un episodio vero caduto a Milano a Lambrate nella polizia ferroviaria che è stata sgominata una banda di poliziotti che faceva delle porcate terribili con la droga nel 2013 2014 esatto allora lui verrà introdotto dentro lì per capire cosa succede e siccome risolverà il caso come fa normalmente le forze dell'ordine sei bravissimo però da qua sparisci e lo trasferiscono a Carovigno e lui torna nel suo paese natio dove tutti i delinquenti dicono è arrivato traditore non così perché è napoletano però è arrivato traditore e la gente per bene dice sì sarà un poliziotto ma è figlio di quei delinquenti quindi avrà una vita difficilissima un'appartheid da due fronti difficilissima e si occuperà di casi di criminalità bassa cioè non organizzata ma quella criminalità bassa che spesso è tremenda perché c'è un componente della vigilanza urbana che adesso si è laureato in criminologia e mi ha detto Gino ti devo raccontare tante di quelle cose ma talmente brutte talmente brutte che ci vorrebbe uno che le indaga ho detto perfetto è arrivato è arrivato Tony Siccardi che sarà questo ispettore come si chiama Tony Siccardi Tony Siccardi c'è uno che ha un bar che lui si chiama Salvatore Siccardi ma ha detto sono io sono io no non sei te Tony è Antonio Salvatore non sei te però è un cognome di Carovia è un cognome di lì giustamente e quindi questa era una storia tra l'altro che era già in mano un grande editore poi la filtrina è lì ha chiusi pazienza vedremo cosa si potrà fare poi sto lavorando alla terza e ultima e finale puntata del barbiere Zoppo che è nato col barbiere Zoppo Milano tra utopia e rivoluzione e dovrà concludersi la storia di Lidia Jakabuc no questi no questi qua erano usciti con l'infinito edizioni poi l'infinito edizioni non distribuiva il libro come si deve allora io alla milanese faccio da per me e ne ho venduti 4.000 da solo ma sei stato bravissimo quindi bene io potevo andarmene anche prima perché questo no 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 noi dobbiamo ringraziare la Alessia dobbiamo ringraziare la Paola dobbiamo ringraziare la zia di Mazzavillani dobbiamo ringraziare Mazzavillani con la fotografia sul telefonino dobbiamo ringraziare Milano All News insomma ci abbiamo un sacco di robe soprattutto Milano All News grazie 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 Rufus grazie ai ragazzi della redazione grazie a tutti noi che ci abbiamo questa gran voglia di parlare di libri ma questo va a letto e ma l'aspettativo è quello di sufflare a loro la voglia di leggerli bene da Alessia Sorgato è tutto arrivederci a presto ciao 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 via di Mazzavillani arrivederci ciao quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi ha risolto giallo ciao Grazie a tutti.